taglio capelli donna per sfoltire e togliere massa lo vediamo insieme in questo video in questo video rispondo a un iscritto al canale che mi fa una domanda inerente a un video che ho pubblicato tempo fa su questo video appunto facevo vedere come scalare i capelli e sfoltire togliere massa su una modella con tantissimi capelli ma con un problema di mancanza di volume nella parte superiore e l'esigenza appunto di sfoltire i capelli nella parte laterale perché ha veramente tantissimi capelli beh in questo video ti farò vedere un estratto di questo video che ho pubblicato tempo fa e ti commenterò ti spiegherò di nuovo questa tecnica della sfoltitura nei laterali per togliere massa e soprattutto risponderò appunto all'iscritto al canale per fargli capire fargli vedere quando e come meglio fare e quando ripetere questo taglio di sfoltitura di capelli per togliere massa innanzitutto mi presento sono mirco alunno e sono il fondatore del programma trasforma la tua passione in un lavoro appassionante e prima di andare al video ti ricordo che è fondamentale che tu ti iscrivi al canale perché questo è l'unico modo che ho per poterti tenere sempre aggiornata ora andiamo direttamente al video bene come puoi vedere per creare questo taglio sfoltito nei laterali è importante che crei principalmente due sezioni una fascia di capelli dalla parte frontale sinistra fino alla parte frontale destra e una fascia di capelli rimanente nella parte posteriore e con l'aiuto delle forbici dentate e ti consiglio le forbici dell'azienda creatore di forbici e ti inserisco anche un link di questa azienda così se vuoi puoi andare direttamente a vederle e acquistarle e comunque con queste forbici faccio delle piccole sezioni da circa un centimetro e possibilmente in verticale o se hai dei impedimenti come orecchie puoi anche andare in diagonale l'importante è che non passi più volte sulla stessa ciocca e appunto vado a fare dei tagli attaccati alla radice questa tecnica va a togliere una percentuale minima di capelli potrei dirti sotto al 5 per cento ma credimi il beneficio è grandissimo ok ma è possibile farla spesso direi di no non è possibile e ti consiglio di ripeterla non prima dei sei mesi e questo perché si dà tempo ai capelli tagliati di ricrescere in modo da riprendere la loro normale curvatura verso il basso perché diversamente se viene fatto con tempi ristretti beh ci ritroveremo ad avere troppi capelli corti e un'altra domanda che mi hanno fatto è possibile farlo anche su uomo beh ovviamente sì come nella donna ma sconsiglio che venga fatto nelle parti superiori perché diversamente si potrebbe vedere di capelli corti che rimangono dritti che ricrescono ma nei laterali questo problema non c'è assolutamente e quindi la tecnica è molto semplice non avere paura di farla e i benefici sono veramente molti e le dimmi cosa ti è piaciuto di più di questo video e scrive pure qui sotto e ti ricordo che è fondamentale che tu ti iscrivi al canale perché ogni settimana pubblico dei video per aiutarti a trasformare la tua passione in un lavoro appassionante ciao